Ciao ragazzi, come ho già annunciato in un altro video, appena esce Elementor OS 6 stabile sul mio portatile ci installo quella perché come ho già detto ha un'integrazione con il touchpad fantastica, le gesture 1 a 1 sono formidabili e purtroppo Pantheon in quel modo configurato da Dio è attualmente solo disponibile per Elementor OS 6 è vero che potreste installarlo anche su Ubuntu ma non penso che l'integrazione sarà la stessa perché loro fanno anche modifiche sotto la scocca dietro il sistema operativo che non possono essere portate facilmente al momento ad altri sistemi operativi quindi si pone un problema, come faccio senza il mio amato Package Manager? se voi siete utenti Linux, Ubuntu o Debian o Fedora o qualsiasi altra distribuzione sapete che non è sempre una passeggiata installare software da GitHub tutto quello che non è già pacchettizzato all'interno dei repository della distribuzione non è poi così scontato bisogna andare sulla pagina GitHub del tizio che ha creato il software seguire le istruzioni se ci sono e auspicabilmente tirare solo un paio di madonne cercando di installare tutte le dipendenze, compilare da sorgente eccetera eccetera ora una cosa su cui forse non ho insistito abbastanza quando ho parlato di Mangiaro è che su Arch e Derivate, quindi anche Mangiaro, è presente una cosa chiamata AUR Arch User Repository che altro non è che una raccolta di script chiamati Package Build PKG Build che sostanzialmente sono degli script eseguibili in Bash che automatizzano una serie di operazioni per installare un software da codice sorgente su GitHub, GitLab o quello che è quindi che cosa succede? che nella maggior parte dei casi trovate già scritto da qualcun altro da un altro utente della community un file Package Build per la compilazione e installazione automatizzata per il software in questione che trovate su GitHub e a quel punto il processo di installazione per noi utenti comuni mortali diventa quello di un qualsiasi altro pacchetto nei repository quindi l'enorme vantaggio per chi usa Arch e Derivate è che software che non sono presenti nei repository delle distribuzioni spesso sono comunque automatizzati e pacchettizzati all'interno di AUR installabili alla stessa maniera ora è difficile per me che sono pigro rinunciare a una tale comodità quindi che cosa possiamo fare? beh, ho trovato questo software chiamato Junest o Younest, non saprei, pronunciatelo come vi pare che installa Arch Linux, o meglio una derivata di Arch Linux in una chroot poi in realtà non è del tutto vero dipende dal metodo che volete utilizzare ce ne sono di più di uno potete usare tre backend differenti ad esempio i namespace di Linux oppure prroot oppure una chroot qui c'è una tabella comparativa con vantaggi e svantaggi comunque feature supportate e non supportate in ciascuno di questi metodi comunque non perdiamoci in chiacchiere e installiamo Arch Linux su Ubuntu 20.04 fra l'altro se qualcuno se lo stesse chiedendo questa è una distribuzione chiamata Windows FX basata su Ubuntu 20.04 vi lascio anche il link alla video recensione ecco dimenticavo, prima di procedere qualcuno si starà chiedendo ok ma che differenza c'è tra usare semplicemente un container ed avviare le applicazioni che voglio tramite un container esistono Docker, LXC e via dicendo qui è spiegato in maniera abbastanza chiara dicendo che l'obiettivo dei container come Docker, LXC e via dicendo è di isolare questo mini sistema operativo per eseguire applicazioni specifiche e poi condividere selettivamente solo alcune risorse mentre questo progetto, UNEST si muove nella direzione opposta quindi cerca di massimizzare la cooperazione tra il sistema operativo host e il sistema operativo guest tant'è che come fa l'esempio con top, Htop e via dicendo monitor delle risorse se lo eseguite all'interno di UNEST vedete le risorse utilizzate all'interno del sistema operativo host quindi non c'è isolamento ma c'è integrazione posso anche eseguire una qualsiasi applicazione grafica all'interno di UNEST che a tutti gli effetti viene eseguita sul mio sistema operativo soltanto che gli eseguibili vengono linkati con tutte le loro dipendenze alla root di UNEST poi vediamo, molto interessante allora, come si installa? beh, molto semplice basta copiare e incollare queste linee sul terminale sostanzialmente stiamo clonando il repository e stiamo aggiungendo alla variabile path dove vengono cercati gli eseguibili questo local share UNEST bin qui si trovano gli eseguibili di UNEST vediamo che cosa c'è qua dentro per la cronaca soltanto UNEST opzionalmente dice se vuoi anche usare i wrapper dei comandi installati in UNEST direttamente dall'host puoi anche esportare quest'altra cosa qua vediamo cosa c'è dentro UNEST wrappers ah, non c'è niente ma questo in realtà è normale perché non abbiamo ancora avviato UNEST quindi se adesso uso UNEST dice effettivamente the image is still not installed run this first UNEST setup vabbè, ok ti guida ecco, questa è la parte in cui viene scaricata l'immagine di UNEST questo sistema ARCH disegnato per lavorare in questa CH root P root o via dicendo l'installazione di UNEST ha avuto successo ci avvisa di selezionare i mirror corretti per il nostro paese all'interno di ETC Pacman di Mirrorlist per metterli su Italia ad esempio e poi dare pacman-syy per aggiornare tutto quanto probabilmente se io vado dentro a .unest etc pacman.d mirrorlist e poi vado a decommentare Italy eccoci qua quindi ok adesso riproviamo UNEST pacman-syy vabbè non sono root certo lo facciamo con i privilegi di root ci mancherebbe altro ha eseguito correttamente proviamo l'installazione di Vim ok oh è andata a buon fine ok adesso ho Vim perfetto siamo ufficialmente ragazzi dentro a una ARCH adesso vediamo se ho installato anche IAI esatto c'è anche IAI fantastico facciamo IAI-SYY riaggiorniamo tutto ok vediamo qualche esempio del perché questa cosa è fighissima e utilissima adesso apro un terminale questo è il terminale classico quindi di Ubuntu ok e digito Python 3 l'ultima versione disponibile per Ubuntu è Python 3.8 tranquillo ho già controllato quindi anche facendo apt update insomma se voglio la 3.9 la più recente non lo trovo messo che io voglio installare appunto una versione bleeding edge super mega recente di un qualcosa come può anche essere Python non ho troppo il modo di farlo in maniera semplice su Ubuntu se non ricorrere alle installazioni manuali compilare da sorgente da github e via dicendo questo invece d'altro canto è il manuale è il terminale non il manuale di ARCH Linux quindi se io faccio pacman-s facciamo una ricerca prima python3 ecco il pacchetto chiamato python è già la versione 3.9.2 quindi mi basta fare pacman-s python senza altre lettere in mezzo con sudo davanti magari voilà e sta installando python3.9 che posso utilizzare se lo invoco da qua dentro quindi python3 vedi 3.9 questa è l'ultima versione vale per le librerie vale per i software vale per qualsiasi cosa quindi questa è la prima ragione le robe all'ultima versione se vi servono perché arrivano prima su ARCH che su molte altre distribuzioni oppure altra cosa metti che voglio installare da sorgente l'ultima versione che si trova su github di olive video editor quindi posso fare IAI che pescherà il software da AUR olive trattino editor oppure forse era solo olive non mi ricordo con che nome è stato inserito abbiamo due versioni la 0.1.2 trattino 2 oppure olive git che è semplicemente un'automazione appunto tramite package build per compilare da sorgente l'ultima versione sul ramo master di olive video editor su github e diciamo che voglio installare questa qui quindi IAI meno S olive trattino git vuoi rimuovere queste dipendenze dopo l'installazione no diciamo di no va bene così per effettuare questa installazione ha bisogno del package build per open color IO e open image IO perché sono le versioni 2.0 che non sono neanche pacchettizzate all'interno di ubuntu quindi per installare da sorgente questa roba senza un hour helper avrei la vita difficile perché prima di poter installare e compilare da sorgente lui dovrei scaricare e compilare da sorgente anche lui e lui mentre lui invece mi compila da sorgente in automatico tutte le dipendenze necessarie quindi non devo preoccuparmi di niente ok procedi con l'installazione yes questo è quanto è semplice installare software su arch e derivate ora installa le dipendenze per compilare ed eseguire olive video editor dai repository successivamente scarica e installa i package build ah ok qui c'è un errore che dice che non trova gzip sudo pacman meno s gzip e anche strip strip non esiste è dentro a binutils strano quindi non ci sono binutils ok questo immagino che sia dovuto al fatto che è una installazione super mega minimale quindi è andato storto quel passaggio mi basta rieseguire il comando dopo aver installato quello che si lamentava che mancava ok perfetto ha installato già le dipendenze quindi non le reinstalla adesso compila da sorgente tutte le dipendenze aggiuntive tramite package build quindi in questo momento sta scaricando open color io perché open color io serve a open image io che serve a olive comunque vedete che si occupa di tutto lui noi non dobbiamo fare niente voilà cosa sta facendo sta scaricando i repository da github al passaggio precedente ha installato in automatico tutte le dipendenze per la compilazione ora c'è un errore dice che manca un compilatore c mannaggia a loro super minimale ok non c'è neanche un compilatore gcc quindi riproviamo per l'ennesima volta ok 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 forse questa volta mi sento fortunato non sono anch'io se mi sento fortunato ok ok è partito comunque tenete a mente che questo sta succedendo perché è una variante super mega ristretta di arch linux e comunque ora che l'ho fatto una volta mi rimane il compilatore per tutti gli utilizzi successivi quindi da adesso in poi dovrei avere la vita più semplice comunque non che sia stato difficilissimo ora viene il bello perché mi posso anche sbaccare e rilassarmi questo che vedete è il volto della soddisfazione e del sollievo ho installato correttamente olive ora posso anche lanciarlo olive editor come vedete non ci sono problemi non devo esportare variabili per il display non devo fare cose strane semplicemente si lancia it just works anche se devo dire che c'è qualche problema con i temi normalmente questa cosa non succede qui c'è qualcosa che è andato terribilmente storto con questi menu ma tecnicamente il programma installato sta eseguendo il motivo per cui non sta funzionando poi cercheremo di capirlo ma ad ogni modo non vi ho convinti volete vedere un altro esempio installiamo doof questo è il terminale di ubuntu sudo apt install doof oh no non è pacchettizzato doof quindi che si fa beh in realtà ci sarebbe questo sto un po' barando sono andato prima sul sito e ho visto che ci sono i pacchetti scaricabili o forse i repositori per ubuntu ma comunque per brevità diremmo che faccio iai meno s doof quale posso installare doof doof bin doof git indifferente ok yes scarica tiki 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 sources are ready e parte la compilazione che soddisfazione è farlo partire a compilare da solo senza ok perfetto installato fatto fatto ci ha voluto tanto infatti il caso di oliva è stato il più sfortunato di tutti generalmente i package build sono fatti molto bene e installano da soli tutte le dipendenze poi vabbè c'era anche il caso di non avere un compilatore installato e quello vabbè comunque voilà installato ora c'è una particolarità che se io avvio cerco di avviare almeno questo comando o comunque qualsiasi altro software che ho installato da un terminale di ubuntu ovviamente dice che non esiste perché si avvia soltanto da questo terminale in cui ho avviato in unest se volete eseguire applicazioni installate in unest senza prima dover digitare unest a patto che siate disposti a incasinare un po' il vostro sistema se non fate attenzione potete esportare questa variabile d'ambiente e questa variabile d'ambiente in maniera persistente magari aggiungendo il vostro bash rc come suggerisce qui e a questo punto potete fare pacman meno s boh htop vedete sta proprio eseguendo pacman che è un eseguibile di unest per rendere permanenti le modifiche comunque per la cronaca appunto bash rc ok aggiungo queste due righe qua in fondo al file sto andando veloce perché vi sto dicendo che cosa sto facendo sostanzialmente quindi da adesso in poi ogni nuovo terminale che apro voilà uno nuovo proprio posso anche eseguire doof direttamente voilà quindi non c'è davvero bisogno di eseguire giù unest in tal senso e niente complessivamente penso sia una cosa estremamente interessante per chi come me non riesce a fare a meno di pacman aur e arch in generale grazie a tutti